Buona serata, ben trovati siamo in diretta. Il fatto del giorno insieme per parlare prima di un problema noto per tutti, quello della casa. Su Milano parliamo ovviamente di case Aller ma anche di case del Comune di Milano. Lo facciamo con Stefano Chiappelli che è il segretario generale del Sunia di Milano, il sindacato degli inquilini. Buonasera, Chiappelli nella seconda parte invece come ogni lunedì si parla di pensioni con il nostro amico Paolo Zani della CISL. Parleremo ovviamente dei problemi legati alle vostre pensioni anche. Il numero comparirà in sovraimpressione e la possibilità per voi è quella di chiamare in diretta. Sin da questo momento in gioco c'è la casa, abbiamo scritto, perché è quella la questione che ha visto scendere molte persone in piazza. E lo sa bene Chiappelli sia dalla parte degli inquilini e l'avevamo già visto. La scorsa settimana però abbiamo visto una cosa nuova perché sono scesi in piazza anche i dipendenti di Aller. In gioco c'è qualcosa di più grande questa volta è la stabilità stessa di Aller che rischia di creare una bolla sociale non indifferente. No, Chiappelli? No, noi abbiamo avuto un incontro alla fine di settembre con il commissario straordinario, l'ex prefetto di Milano, dottor Lombardi. Abbiamo chiesto da lui la situazione reale di Aller a Milano. Dalla sua dichiarazione di fatto è emersa che l'azienda, oltre al famoso buco che tutti conosciamo, aveva una difficoltà immediata di reperire risorse necessarie per pagare gli stipendi, ma soprattutto per garantire l'accensione del riscaldamento ai servizi agli inquilini. E che ormai insomma siamo sotto data, no? Perché domani è la giornata. La cosa importante è che martedì 8 ottobre sotto la regione Lombardia hanno manifestato non solo gli inquilini ma anche i lavoratori dell'azienda. Quella manifestazione ha prodotto un primo importante risultato. Siamo stati ricevuti dall'assessore Bulbarelli che si è impegnata a portare cosa che ha fatto bene a discorso in giunta una delibera per uno stanziamento iniziale di 30 milioni di euro. Per migliorare un po' la situazione. Per far ripartire la macchina e garantire stipendi ai lavoratori ma soprattutto far partire i servizi, i riscaldamenti delle case di Alana. Vero è che il problema delle case popolari su Milano invece che aggiustarsi un po' alla volta, come ci si aspetterebbe, aggiunge tematiche nuove. Quella dei lavoratori che addirittura rischiano uno stipendio è una cosa nuova. Nel frattempo però di soluzioni buone non sembra ne arrivino, nel senso che le lunghe liste d'attesa per avere una casa restano lunghe se non di più. I vari disagi dei servizi, abbiamo detto, tra riscaldamenti e ascensore sono all'ordine del giorno. Esiste un piano per andare da qualche parte o restiamo fermi a questa situazione che sembra davvero difficile per molti? Noi ci preoccupa il fatto che non c'è un piano strategico. Quindi i 30 milioni sono una goccia nel mare necessari per garantire quanto ho detto prima. Il punto vero è che in Regione Lombardia si parla soltanto, e noi ne siamo ovviamente contenti, di una riforma del leale e della sua governance. Noi siamo d'accordo, bisogna ridurre le aziende, bisogna ridurre i costi, bisogna garantire maggiore efficienza, maggiore efficacia, eccetera. Però mancano altre cose, per esempio, le edilizie popolari in questi anni, nella nostra Regione e a Milano, le case popolari sono state finanziate solo ed esclusivamente dall'entrata derivanti dai canoni, previste da legge regionale 27, che noi vogliamo cambiare profondamente, perché ha aumentato in maniera iniqua i canoni e ha causato il tasso di morosità molto alto in avere. Ma soprattutto sono state finanziate le opere di manutenzione straordinaria solo con le introiti derivanti dalla vendita degli alloci. Per cui bisogna ripensare completamente quel meccanismo. E noi, per esempio, chiediamo in Regione Lombardia che la Regione utilizzi una parte del proprio bilancio, la nostra proposta parla di 1% del bilancio di Regione Lombardia, per un finanziamento straordinario a favore delle case popolari. Popolari, perché una volta vendute non sono più case popolari, no? E certamente, perché aggiungo, se, come si dice, Aler ha una funzione sociale e deve continuare ad avere una funzione sociale, è chiaro che questa funzione non può essere a carico del gestore, ma deve essere a carico, in questo caso, delle istituzioni. Di un ente pubblico. Esattamente. Quindi non si pretende che sia inattivo in questo senso, tuttavia, senza neanche avere il buco. Quello che è straordinario, però, è che abbiamo visto, hai detto tante volte, quanto lunghe sono queste liste d'attesa. Cioè, se io oggi ho i requisiti sulla carta per accedere a una casa popolare, qual è l'iter, più o meno? Facciamo finta, no? Allora, se il cittadino che fa una domanda per la casa popolare, perché sta pagando un affitto molto alto nel mercato privato e non ce la fa pagare, e fa domanda per una casa popolare, passano decenni. Cioè, io sono Fumagalli, con moglie e figlio, supponiamo, con uno stipendio troppo basso per accedere al privato. Oggi faccio richiesta, poi? Passano anni, anni, anni. Quindi, che la faccio a fare, a questo punto? Infatti, infatti, deve sapere che... Anche se di Milano, poco importa, Milano, Cinisello, Sesto, cambia niente. L'ultimo bando parla di oltre 22.000 famiglie che hanno fatto domanda per la casa popolare. Ma se, voglio dire, facciamo un punto rispetto agli anni precedenti, negli ultimi tre anni hanno presentato domanda per le case popolari più di 70.000 cittadini milanesi. Quindi, per assurdo, chi può avere la casa popolare è soltanto quell'inquilino che si trova con lo sfratto eseguito. E quindi, con tutti i problemi che questo ne consegue, purtroppo l'esecuzione di uno sfratto con la forza pubblica permette a quella famiglia di avere sulla carta un alloggio, perché poi in pratica non è così. Non è così, perché le case sono assolutamente poche. Quindi, quel principio che noi spesso ricordiamo alle istituzioni e alla politica, garantiamo il passaggio da casa a casa, la famiglia sfrattata, molte volte questo principio non viene rispettato. Sono delle difficoltà in più. Esattamente. Perché ci domandiamo, perché è un tema che viene sempre fuori, da una parte ci sono quelli che avrebbero il diritto e sono magari in queste liste e hanno il diritto, magari, ma anche la fretta di andare in una casa popolare, restano lì per decenni, come ci dice Chiappelli. Dall'altra, però, ci sono persone che invece nella casa popolare già ci stanno, hanno ormai esaurito quello che era il momento di emergenza della loro vita, non avrebbero più i requisiti per stare lì, ma nessuno li manda via. Sì, è un concetto dove non mi trovo molto d'accordo. Non è il problema, non è togliere la casa a chi ha già oggi una casa in affitto popolare, anche perché comunque quelle famiglie sono entrate in quegli alloggi, perché comunque avevano dei redditi per poter accedere alle case popolari. Negli anni questi redditi sono aumentati, ma corrispondono anche a un affitto in base alla propria capacità, molte di queste... Ma mica sempre, abbiamo delle storie di gente che paga poche centinaia di euro fuori mercato rispetto... E magari nel frattempo... Molte famiglie però, per esempio, hanno i figli che hanno la fortuna di lavorare. Una volta che i figli escono di caso, chiaramente il reddito diminuisce. Ma il punto vero è che non è sufficiente questo. Il punto vero è che se non si rimette al centro delle scelte nazionali, regionali e locali, il rilancio del mercato dell'affitto pubblico, questo che dici tu non risolve il problema. Per esempio, perché non cominciare a affrontare il problema degli alloggi sfitti? I dati ci dicono che ci sono più di 5.000-6.000 alloggi nelle case popolari che sono sfitti. Il problema sai qual è? Sono le risorse. Perché mediamente, per poter rimettere in sesto un alloggio sfitto, se in un stato di degrado, ci vogliono dai 15.000 alle 20.000 euro ad alloggio. Se tu fai una somma 6.000 per 20.000, ti accorgi che sarebbero... Sono cifre importanti. Esattamente. Quindi il problema sono le risorse. Quello che succede in più, oltre al fatto che ci sono evidenti carenze organizzative anche in questo, sembra abbastanza ovvio, ci si mette chi invece ritiene a ragione o a torto che la casa debba essere data a tutti ed è uno dei tanti motti, dei centri sociali che spesso hanno occupato e denunciato il poco utilizzo di alcuni spazi di Milano, partendo con l'occupazione della Torre Galfa piuttosto che, e fanno questa iniziativa che vi faccio vedere sul nostro tablet, cioè marchiano gli alloggi sfitti con una V che sta anche per vendetta, che è la stessa maschera che indossano, che viene da quel famoso film. Detto questo, però, questo metodo sembra un po' come dire un calcio di rigore per chi poi vuole occuparlo, quell'alloggio. E allora andiamo su un problema che è ben diverso da quello che è un problema organizzativo, perché lì si va nell'illegale, no? Questa procedura vuol dire che siamo arrivati alla frutta, chi appena? Questa procedura vuol dire che siamo arrivati alla frutta e che soprattutto non si vuole affrontare il problema. Cioè il problema delle occupazioni abusive è un problema che esiste nelle grandi aree metropolitane. E anche, voglio dire, questo non giustifica conseguenza il fatto che c'è comunque un problema abitativo. Dall'altra parte, però, bisogna che si garantisca anche la sicurezza e la viabilità di chi abita nelle case popolari. Noi come sindacati degli inquilini, sindacati confederali, abbiamo due anni fa, voglio dire, fatto un accordo con l'allora assessore alla casa Lucia Castellano. Distinguiamo le occupazioni per necessità dalle occupazioni fatti dal racket, da chi utilizza il bene pubblico per propri fini, eccetera, eccetera, eccetera. Verifichiamo gli stati di necessità e poi troviamo una soluzione che chiaramente, lo dico con molta franchezza, perché noi del Sunia siamo caratterizzati per questo, non deve essere il motivo per poter superare quella graduatoria che prima dicevi tu. Per cui una volta uno è dentro. Un canale, un canale. Risulta un po', come dire, proprio borderline questo discorso, perché, come dire, supponiamo questo lo traduciamo in un furtarello, allora distinguiamo tra quello che è un furto per necessità o no, perché sempre di atto illegale parliamo, no? L'occupazione di una casa, tant'è che il Comune ha detto chiaramente non siamo per quella linea, no? Ci mancherebbe altro. Pronto chi c'è in linea? Buonasera. Buonasera. Chi parla? Sì, volevo fare... Pronto? Sì, la sento, chi parla? Buonasera. Sono Giancarlo, chiamo da Milano. Prego, Giancarlo. Volevo fare una domanda, alla prima domanda, senza nessuna vera polemica, alla segretaria del Sunia. Sì, sì. Alla domanda che lei aveva fatto prima sull'utilizzo della Casa Popolare. Sì. Perché è sui redditi, cioè, faccio un esempio banale. Se una famiglia entra, come diceva il segretario del Sunia, e ha zero reddito, poi è stata sfrattata, e poi, per una serie di motivazioni, questa famiglia riesce a rinserirsi, a guadagnare i soldi, perché appunto non fanno i controlli? Questa è una domanda. E poi, io abito in Piazzale d'Ateno, ho qua, ad esempio, al numero civico 5, una casa abitata da molte persone che hanno lo sfratto e quant'altro. La domanda che ci poniamo in molti, qua in zona, ma ripeto, senza nessuna vera polemica, si vede un parco macchine esagerato, la gente ha BMW serie 5, SUV e quant'altro, pagano 200, 200. La domanda è, ma come mai, perché, ma chi controlla? Qui dice, qualcuno non la conta giusta, no? Io la vedo esattamente come il nostro amico, cioè, la Casa Popolare è una casa a tempo determinato, nella logica di come è stata concepita, no? Altrimenti è un'altra roba. E allora andiamo su altre logiche. Vediamo se riusciamo a rispondere. Grazie intanto al nostro amico, prego. A lei. Io sono d'accordo. C'è un piccolo problema, che non ci sono alloggi disponibili. C'è l'edilizia privata, uno piglia, dice, ho il reddito, vado e mi prendo una finta. Doveva essere l'edilizia convenzionata, perché comunque la legge già dice che se la famiglia, che per due anagrafe dell'utenza, due verifiche dei redditi per due anni consecutivi, ha un reddito da decadenza dalla Casa Popolare, il Comune deve offrire in alternativo un alloggio indilizia convenzionata. Io sono d'accordo su questo. Sono d'accordo sul fatto che ci sia una mobilità nel patrimonio pubblico. Il patrimonio pubblico è ingessato. Io sono d'accordissimo su questo. Il punto vero è che comunque quel numero è insufficiente e soprattutto non c'è un'alternativa. Detto questo, noi siamo come sindacato perché ci sia il massimo del controllo e il massimo della trasparenza. Anzi, siamo noi che molte volte facciamo le segnalazioni che ci provengono. quindi noi non vogliamo con nessuna ragione il mio concetto non vuol dire copriamo chi ha redditi alti. Però il nostro amico giustamente dice se uno c'è il Mercedes di cosa stiamo parlando. Sono perfetto. Infatti noi chiamiamo. Facciamo una breve interruzione. Parliamo tra poco anche di un'altra tematica che viene spesso sollevata all'intorno del tema delle case popolari che è quello degli immigrati e dei quartieri ghetto che si creano. La gente dice ma com'è possibile se ci sono delle assegnazioni che vanno per logiche che sono di famiglia di reddito e quant'altro perché tutti quelli immigrati dalla stessa nazione finiscono lì oppure là oppure là creando ghetti creando problemi sociali alla città che li vive e anche a tutti quelli intorno interruzione. La buona lettura del giorno che vi consiglio è questo libro si chiama Scappati di mano parla di sei adolescenti sei storie diverse un'età difficile quella dell'adolescenza dove Antonio Ferrara e Filippo Mittino che sono un formatore e uno psicoterapeuta raccontano appunto diverse situazioni in cui ci si può trovare da adolescenti utile ovviamente per ragazzi ma anche per i genitori ve lo consiglio edizioni San Paolo sei racconti per narrare l'adolescenza e i consigli per non perdere la strada con Stefano Chiappelli allora questo problema degli immigrati abbiamo detto nelle case popolari che qualcuno denuncia attenzione perché gli immigrati passano hanno dei requisiti per cui passano avanti nelle graduatorie e la Lega Lombarda che ha poi vinto le elezioni regionali aveva detto nella nostra riforma terremo conto anche di questo priorità ai milanesi e non agli altri no? questa è una cosa abbiamo sentito dire 300 milioni di volte ovviamente io non sono d'accordo con questa con questa posizione anzi il problema degli immigrati che scavalcano le graduatorie e accedono solo loro all'assegnazione di una casa popolare è stata usata ed è usata strumentalmente dalla politica in special modo dalla Lega e il punto è che strumentalizzata sì però le zone ghettizzate altrettanto ci sono cioè è una realtà però secondo me Stefano bisogna fare un salto il salto è che noi non siamo perché le case popolari siano dei ghetti anzi noi pensiamo che ci sia ci debba essere un mix sociale etnico generazionale e che quindi ci siano voglio dire i pensionati ma ci possano essere anche le giovani coppie oppure impiegati e quant'altro così dovrebbe essere i lavoratori così non è per cui è un falso problema che gli immigrati portano via la casa popolare anche perché comunque le giovatorie sanno dimostrare il contrario ma qui ci si copre davanti ad una incapacità politica il punto vero è le case non ci sono per chi ne ha bisogno cioè Milano è una grande area metropolitana e le case purtroppo sono insufficienti a rispondere a un bisogno abitativo non bisogna costruire a tutti i costi bisogna mettere in campo delle proposte il punto vero è questo per cui la politica e soprattutto chi ha governato in questi anni in regione Lombardia Lega compresa utilizza questa strumentalizzazione per nascondere quello che è stato l'incapacità capiamo le proposte perché se no abbiamo detto quelli che magari non hanno più requisiti comunque restano perché quelli che fanno domanda non gli viene data risposta per le ragioni che abbiamo detto immigrati o non immigrati poi ci sono quelli che sono occupanti abusivi in racket e tutto il resto insomma la situazione sembra questa i personaggi sono quelli però la trama non si muove ha detto le proposte quali sono noi abbiamo detto all'inizio della trasmissione non è pensabile che l'elizia popolare si finanzi solo con gli affitti che pagano l'inquilino e con la vendita delle case noi abbiamo fatto delle proposte una di queste è che una parte una percentuale ho parlato dell'1% del bilancio della regione Lombardia venga voglio dire si costituisca un fondo straordinario per intanto andare a recupero degli alloggi che sono sfitti un primo atto è stata la giunta milanese venerdì che ha recuperato recuperato 300 alloggi che si assommano già agli alloggi recuperati questo è il primo passo dopodiché c'è la necessità di aumentare l'edilizia popolare nella nostra città e qui credo che bisogna anche coinvolgere i privati cioè pensare che delizia che rilancio del mercato dell'affitto possa passare attraverso soltanto i fondi pubblici non ci sono più i fondi evidente bisogna anche i privati però dall'altra parte le esperienze più recenti non tutte ma quelle più recenti anche viene in mente il gallaratese alcune situazioni in cui c'è la costruzione nuova pronti via qualcuno occupa abusivamente o altrettanto si creano gli stessi problemi di prima cioè non è che casa nuova corrisponde a mentalità nuova perché la gestione è la stessa sì il problema ripeto il problema delle occupazioni abusive che è un problema da contrastare drammatico una posizione sunia una posizione chiara non è a favore delle occupazioni anche se abbiamo ritenuto detto prima di sottoscrivere insieme agli altri sindacati un accordo per superare il problema delle occupazioni oggi presenti nella nostra città ma il punto vero è sempre questo l'edilizia popolare è insufficiente so che voglio dire la solita canzone però è questo e quindi se sull'edilizia popolare non si investono risorse chiaro ho capito mi dice al volo due cose perché è importante anche per chi ci segue abbiamo detto c'è il problema o almeno c'è stato questo allarme riscaldamenti accenderanno non accenderanno in che modo a singhiozzo a tempo pieno insomma come funziona ci rassicura ci sono buone notizie perché domani è il giorno preposto per l'accensione ma ma io allora io rispetto a quanto ha deliberato la giunta regionale il servizio è garantito sui giornali non ci saranno voi non avete ricevuto no sul giornale abbiamo letto Maroni che dice questi 30 milioni come giustamente richiesto dal sindacato serviranno anche per accedere domani i centralini bollenti domani i centralini saranno bollenti perché poi bisogna passare alla pratica e sappiamo che la pratica è un'altra cosa e sappiamo che perché le abbiamo passate anche l'anno scorso disfunzioni difficoltà voglio dire giorni passati anche che al fede ci sono state per cui ci aspettiamo domani che il nostro centralino sia preso d'assalto e poi le domando vedo che poi giustamente voi dite fare case nuove cambiare un po' l'organizzazione quello che è però il presidio del ah no questo è vecchio era tra gli altri però voglio dire uno dei vostri punti è stato anche quello di abbassare gli affitti adesso terrete ancora questa linea dell'abbassare l'affitto oppure no perché c'era anche questo di problema allora noi abbiamo due fronti c'è il fronte del mercato privato dove è necessario ridurre gli affitti perché sono insostenibili e questa è anche la causa passare gli affitti del privato quindi non del pubblico questa è anche la causa che su 15.000 passa sfratti convalidati presso il tribunale di Milano 11.000 sono per morosità cioè famiglie che non ce la fanno l'altro fronte è quello di modificare la legge regionale 27 quello delle case popolari quello che nel 2007 votato dalla giunta a suo tempo Formigoni ha adeguato i canoni di affitto quella legge non lo diciamo soltanto noi ma lo dice anche chi quella legge l'ha votata bisogna cambiarla perché quella legge ha creato delle iniquità e comunque ha creato problemi di sostenibilità perché se no l'amorosità che viene scritta sui giornali è un'amorosità per buona parte incolpevole cioè realmente c'è una difficoltà di chi abita nelle case popolari a corrispondere agli affitti che non sono quelli del mercato privato salvo una certa area noi diciamo noi qualche giorno FederCasa che è la federazione che raggruppa tutte le aleri ACP d'Italia dice che uno o due inquilini su quattro è povero di chi abita nelle case popolari quindi il problema è mettere mano alla riforma della legge 27 modificare quella legge cambiare rendere gli affitti più equi e garantire comunque un'entrata certa agli enti gestori vedo anche che per esempio voi sottolineate questo è il sunia nazionale si dice che il ministro Lupi dice l'emergenza abitativa è una priorità ma non parla di risorse necessarie da una parte e dall'altra però il ministro Lupi se ne era proprio uscito con una proposta che anche quella non è nuova veniva se non sbaglio proprio da voi come utilizzo degli spazi che quello di utilizzare parte del patrimonio delle caserme noi dicevamo anche del demanio militare e quant'altro per edilizia per edilizia popolare che però vorrebbe dire comunque ristrutturazioni prendere sempre di soldi si parla esattamente di fronte a una difficoltà economica noi proponiamo che si faccia una mappatura di tutto quello che è disponibile di tutto quello che è disponibile nell'area metropolitana perché io ragiono nell'ottica dell'area metropolitana da mettere a disposizione di chi è sfrattato di chi ha fatto domanda per una casa popolare ma aggiungo non se ne parla mai abbiamo una parte di popolazione milanese che fino a qualche anno fa aveva un posto di lavoro tranquillo e un alloggio in affitto tranquillo la grande dismissione del patrimonio degli enti assicurativi chi ce l'ha fatta la casa se l'è comperata chi non ce l'ha fatta ha tentato di rinnovare un contratto di affitto non ce l'hanno fatta e il dato sulla morosità che ho detto prima è il risultato è la crisi quindi hai bisogno di reinventare una politica pivotativa che affronti questa nuova emergenza vediamo il sommario del nostro TGN 19 e 15 con Jacopo Casoni via il dramma dei profughi raggiunge Milano tanti immigrati che in queste ore affollano la stazione centrale per lo più in transito per raggiungere Germania e Francia Palazzo Marino chiama raccolta le associazioni e chiede un tavolo di coordinamento per gli aiuti la scala ha vissuto una giornata drammatica almeno così l'ha definita l'assessore alla cultura Filippo Del Corno il teatro così come altre realtà della scena milanese ha di fatto bocciato il decreto valore cultura ed è pronto a presentare un documento unitario al governo sabato prossimo si terranno a Milano i funerali di Lea Garofalo la collaboratrice di giustizia uccisa dal marito nel 2009 la figlia denese ha voluto che le esegui e si tenessero nel capoluogo lombardo sarà presente il sindaco Pisapiano la questione IRPEF è approdata oggi in consiglio comunale la maggioranza conta di alzare la soglia di esenzione a 20.000 euro ritoccando i 15.000 previsti nella prima stesura del bilancio i fondi per la manovrina arriveranno dagli accorgimenti legati all'Imu si prospettano sedute incandescenti e dice bene Casoni saranno incandescenti questi giorni perché hanno alzato per abbassare per rialzare va bene Stefano Chiappelli segretario generale del Sunia di Milano grazie di essere rimasto qui con noi abbiamo parlato con lei di case popolari buona serata grazie a voi grazie adesso ci fermiamo pubblicità per poi tornare insieme spazio dedicato alla CISL Paolo Zani esperto di pensioni e le telefonate per voi questo programma vi è stato offerto da Famiglia Cristiana il settimanale della famiglia grazie a tutti